No, e in più volevo anche aggiungere Grazie ragazze, è molto carina, si è parlando di un po' in giro No, volevo anche aggiungere che finalmente qualcuno sta cambiando idea e adesso soprattutto grazie a voi perché vi difendete sempre Quante ore? Dopo dieci anni, dopo non ci stanno Spero vederlo e saperlo, grazie Ciao